Un giorno qualunque, in un prato qualunque. Fino ad ora. Ciao! Io mi chiamo Maya! Finalmente, sul grande schermo, le avventure della piccola Maya. Maya, aspettami! Maya! Questo alveare è in serio pericolo! Oggi sono entrati i carabroni e hanno rubato la pappa reale! Dobbiamo riprendercela, o la nostra regina non sopravviverà! Mi sto confondendo, che succede? Ci penso io! Andrò avanti e prenderò la pappa reale! Voi mi seguirete con la regina! Troppo pericoloso! Sei solo una piccola ape! Due piccole api! E fuori dal tuo alveare c'è un mondo! Voltatemi! Sì, signore! Lasciate stare! Signore! Sì, lasciamo stare, signore! Sì, danzi! Entra a far parte del mondo di Maya! Ciao, piccolo calabrone! E scopri perché l'amicizia è così importante! La regina ha bisogno di noi, Willy! Dobbiamo fare qualcosa! Non aver paura, ti salviamo noi! Sì! Con Maya, Willy e Flip! Willy! L'Ape Maya Il film Al cinema dal 18 settembre Occhio Fiume